La Giunta ha approvato l'estinzione anticipata del mutuo di Terme Merano S.P.A. Il versamento di 4.700.000 euro si basa sulla quota azionaria della provincia. Il mutuo a suo tempo assunto ammontava 70 milioni di euro, era il mutuo per la costruzione delle terme, che sono state man mano pagate mediante aumento di capitale della società e poi la società stessa è riuscita a pagare le rate del mutuo. Adesso il mutuo sarebbe andato avanti ancora fino all'anno prossimo. Abbiamo deciso però di utilizzare questi fondi provenienti dall'avanza di amministrazione per un'estinzione anticipata. La Giunta provinciale ha varato un pacchetto di misure per 4.700.000 euro allo scopo di arrivare a miglioramenti infrastrutturali in Valmartello di dentro, misure che spaziano a 360 gradi. Dalla banda larga all'energia, dall'acqua alla depurazione biologica, tutte misure che hanno una ricordata diretta in favore della popolazione ed effetti positivi sull'ambiente e sulla competitività economica. Vorrei ricordare che si tratta proprio di una zona molto sensibile, ci troviamo nel Parco Nazionale dello Stelvio e qui per elaborare questo pacchetto di misure hanno collaborato le varie ripartizioni ed uffici provinciali e del Comune di Martello. Via Libera della Giunta provinciale ha il piano triennale di investimenti ambientali delle centrali di Sarantino e Lappago. I fondi complessivi a disposizione nel triennio di competenza ammontano a 3.200.000 euro. L'Alto Adige è l'unica regione italiana che prevede il pagamento di fondi ambientali come compensazione per la presenza sul territorio di centrali idroelettriche. Il piano provinciale rifiuti è stato aggiornato nella parte relativa alla gestione dei rifiuti speciali e aggiornamento approvato dalla Giunta. Il piano descrive in dettaglio i flussi dei rifiuti provenienti da tutte le attività produttive sul territorio provinciale.